L'associazione Massimo Oddo Ollus, di cui il campione del mondo Massimo Oddo e Presidenten, festeggia i 10 anni di attività e per questo sta organizzando diversi eventi, tutti finalizzati ad aiutare chi ha bisogno. Tra i più interessanti c'è da segnalare quello di domani, venerdì 28 marzo alle ore 21, all'auditorium Flaiano di Pescara con il concerto di Filippo Graziani, reduce da Sanremo con la canzone Le cose belle. Il ricavato del concerto andrà a favore dell'associazione Rio de Oro Montefeltro che si occupa della popolazione disabile Saraui. Giovanni Oddo, vicepresidente Gianluca Di Felice, segretario dell'associazione. In questo concerto in particolare presenterà l'album Le cose belle con la canzone che ha debuttato a Sanremo e la canzone che poi sostanzialmente ha ricevuto più voti in tutta Italia, però non ha vinto. In quest'album che contiene 10 pezzi. Quindi ricordiamo che i canali di vendita dei biglietti sono ovviamente quelli principalmente della nostra associazione, quindi che possono partire anche dello stesso Facebook con Massimo Oddo Ollus, appunto, i nostri numeri di telefono. Prometto soprattutto chiamarci al 335 54 84 778. Il bello del partecipare comunque nell'evento è quello sì di avere una mission benefica che chiaramente per noi è importantissima, però è anche quello di passare un'ora e mezza di piacevole musica incentrata soprattutto nel divertimento. Grazie a tutti.